Buongiorno a tutti e oggi siamo qui per vedere un'altra bottina di Parkinson Eco Maxi Edition anche quella prima mi è piaciuta molto del nostro gufo delle nevi scattiamo sempre 3 ore e 50 ragazzi è un po' bello per esempio è giallo e assomiglia a un'aquila ma non è un'aquila per me guardate bellissima un po' così differenza è un'aquila ragazzi è un'aquila se ti esce di nuovo a spodice ragazzi u.gatturaltutti.it dimensioni 2 forza 3 velocità 4 astuzia 5 ragazzi molto veloce molto veloce velocissima vediamo come si chiama falco pescatore falco pescatore ragazzi per dare un sacco di pesci ecco svelato il mistero perchè matava molti pesci le sue zampe palmate squamate con le sue zampe grandi però guardate 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 le ali lunghissime ragazzi questo falco è un secco come si chiama falco pescatore ragazzi però non fa niente però mi dispiace guardate com'è bello allora tuffi mortali ah il falco pescatore si nutre principalmente di pesci che cattura tuffandosi oh no tuffandosi in acqua con le ali semi chiusi e sollevate le zampe distesse in avanti quindi ecco perchè vedete così sto messo sulle zampe distesse in avanti allora una volta cattura la freda da qualche allora una volta cattura la freda però da qualche colpo d'ala e si risolleva quindi da qualche colpo d'ala prima va un po' in giù e poi si risolleva poi con le zampe mette la freda con la testa in avanti oh mi sa perchè in modo aerodinamico oh ragazzi pesci catturati pesano circa 100 250 grandi o 100 grammi o 250 grammi ma il falco pellegrino è in grado di sollevare fino a 100 kg 3 kg 100 kg gira seppure questo e dice che questo è molto silenzioso silenzioso allora lunghezza fino a 65 cm apertura alare fino a 1,7 mm peso fino a 2 kg quindi non è chissà quanto pensava eh ah dove vive mannaccina america che ci possiamo fare africa e australia età massima 24 anni segni particolare zampe squamate ragazzi andate sempre su questo sito www.catturalitutti.it di Agostini vi sarà molto bello e c'è un gioco ragazzi ciao al prossimo video grazie a tutti